Attraverso Mario del Giglio Nel triangolo il mistero, attraverso Mario del Giglio Domanda Esiste dunque un karma subito ed uno gestito? Quello subito è tutto ciò che ci accade non per nostra volontà. Quello gestito è quello che determina il nostro comportamento nei confronti degli altri. Come ci dobbiamo comportare in ambedue i casi? Risposta Non bisogna considerare il karma come se fosse un dare ed un avere. E qui il punto. Ogni vostra azione produce degli effetti karmici. La perdita di un figlio, come si diceva, non è frutto del caso. È un evento ben definito che doveva accadere. E se ti è accaduto, non riguarda solo te. Quel figlio era tuo solo per averlo avuto geneticamente. Quell'evento è servito e servirà a tanti fratelli che vivono quella esperienza. Chiedetevi, riguardo all'esperienza che state facendo, se i vostri atti producono gioia o sofferenza. Infatti, questi vostri atti verranno successivamente valutati nelle prossime vite. Chiedetevi, riguardo all'esperienza. Grazie. 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 Grazie.